Il primo tempo abbiamo giocato, abbiamo provato a giocare come per il resto tutta la partita E' chiaro che loro avevano la freschezza di venirci a prendere e forse in certe situazioni abbiamo forzato delle giocate con dei movimenti non giusti E gli abbiamo concesso un paio di partenze e questo ha fatto sembrare la Regione un pochino più in difficoltà Ma io penso che la partita era stata preparata in questo modo ed è giusto che sia andata così Pressione, io sinceramente personalmente ma credo che i compagni pressione non abbiamo Perché alla quinta giornata penso che la pressione sia troppo prematura o sentire lei E' chiaro che sono partite importanti perché poi si creano tanti punti di distacco e poi sono difficili da colmare Però insomma c'è tutto il tempo e penso che sia importante adesso mettere più fine possibile in cascina e è andata bene così A rigore penso che, non so adesso voi avete visto le immagini, penso che ci fosse, credo che ci siano dei grossi dubbi Il contatto c'è stato assolutamente, poi se uno vuol dire che io magari non prendevo più la palla ci ne possiamo parlare Però insomma nel momento in cui io anticipo ho sperato che lui arrivasse a 3.000 all'ora come ha fatto Una volta che ti prende, ti prende, non credo che ci siano grosse discussioni su questo È andata bene così, sono contento e mi fa piacere per la vittoria della squadra